Buongiorno ma questa... inti che ti hanno detto... i pazienti i pazienti hanno detto che lo so che hai fatto quando violen? ma non è che cosa sia? ma io, sai che fai con l'Avaldo ma io, sai? che fai solo che... che ho fatto con tuneviare? allora, in seguito mi sento era un idiota la mia famiglia non? bello, e? la cucina nel bolo di nuovo, io ci sono e? come si tiene già? io sono domani Si, però... per quel non ho ragionevole, per l'esercito, è per vedre Rai lui fornito, non ho achto, non ho fatto l'esercito Senti l'esercito, non ho fatto il pesimo, non ce ne fosse per il pesimo D'accordo, puoi farmi tutto, non ho fatto la quantità del pesimo Si, avevo passato il pesimo, non ho fatto il pesimo Si, noi non ho fatto l'esercito, non ho fatto l'esercito Mi piacciono, non ho fatto l'esercito, non lascia Mi rischiamo, non lo dice l'esercito, no ho fatto la quarta Non ho fatto lo consigli Sì ma lei è stato giustato in un po' di tempo non è stato giusto ma se non è stato giusto nel senso oggi è stato un'altra volta per i compagni non ci sono non ci sono se non ci sono non è stato giusto non è stato giusto perché è stato giusto E lei mi nervi che a te ha detto. A chi di tutto smog la cinza uncommon? C'è la situazione? Va riusciti alla... Va riuscire a trovare il tipo di spettione. Si, lo recio, le crei ad oggi. Si, l'arri. Come al giusti? non puoi, non puoi essere. La cinza. L'arri. La cinzaOnegione? Creatori? Gaudi non ho visto qui hanno fatto un giusto Ma non, in giusto ci hanno fatto un disagio, Ma non è mai napendo è una cosa non... perchè non possiamo farlo, non so che ciòctiano il sogno, non voglio dire che ciòctiano. Beh? No, poi stai avendoci l'alletto, non è un po' diưởngà di quino, ma dovrebbero essere sulle, non il rispetto plusieurs persone di quino è qui si vede, però io credo che non soρό che ti savolgo, perché non sommo, non sommo dire che ti sommo, che ti sommo Non sommo dire che ceo, non sommo dire? Sì, 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 sì. mi notin, la due ore, tu vuoi tredo tutti i nivi, lo che è il resto è così? L'erroge, 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 l'erroge... Ah, buono, buono. L'erroge, l'erroge... Ah, mamma... Oh, Anna, si a vera... A che a di un versumore, che mi vera... E? A le veo... Che a te un ballo, che mi vero... Che mi caro... E? Ma... No, ma... 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 Anna, Anna, in sanità, in sanità, in sanità. Chiava, in sanità, in sanità, in sanità! No, che per l'èo! E poi fa anche la salvezza e la salvezza e la salvezza. L'uomo è calzata, la salvezza, la salvezza, la salvezza, la salvezza! La bambina sta senza chiudere la ricordo della città che Covid all'istia è nata del mio cuento che era a pusta e del mio cuento era a parte quando si città, mi ragazza e nella città la città, a lei come ho mai rilano ormai nascosto, non ho provato Neguò è quesce? E' così l'allia d'abbassare Poi si trovassero, veramente non è la città Passate a fare le corrette, ma non è l'esigata Alla chi non è la città ma non è la città Passate a fare le corrette l'aria, per quel tempo che lui c'è s'annuale, mi ricordava, e lui era una particolare di un dia che era, però, è una pericolazione di un volo, che era una volta per un volo, la torta per un volo, la torta per un volo, la torta per un volo. Non è la torta per un volo, poi lo puoi dirci per un volo! Perché se ne assiassi, non so, ... Si, i cuoralloni, si dice, ma con te ti basta a casa, e poi andò e te, ti basta a casa, e poi andò e ti stiamo sotto a casa e ci stiamo sotto a casa, e si senta un quarto, si senta in fatti che andano in stavo, e ci stiamo sotto a casa. Matette, i my combined i nostri sono erini intırcati a breve. Ecco questo parte, io ho detto come sono matta al popolo, ma stai ormai mai inseriscono ma non si è importante ed è venuto ma non è tutto non è proprio se soto ma non è non un e tettino una nuova النور ma è più i terci ancora quantos ma e ciò che stai io venci suvore un chavo dirò sì basta io perché io ciò ora e io per favore uno adesso potrete io poto per me orecchia non è che vive così a me che sta da allo che è tutto mio ma con me lo sei di questa è la giornata nel senso ti chiedete? a mamma per niente solo questa lampare non sei un'ottimità non sei un attimo non è o non è un'altra questa cosa è che ho prenduto a quella questa è la giornata ti ho corno al re venga la macchina dove il sarebbe i 19 mali perché la scuola in kuin 8, noi육i guardo e l'óssia sicuro sado e ora Ora, eh? Alla via la carta, viene con la chiamata. Quando è qui la scuola? Come? Come? Quando si viene con la carta, non si viene con le regole, ma va a dar a vedere la scuola. Non, 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 non si viene con la carta. non s'inquiare, non si viene con la carta. Rolungain, l'arabbi della scuola si è decreto scuola Ci ne ha... Non è... Non è... Tu ne è rolungain, non è l'arabbi di qui va? Ré? Viene le ho. E di qui va? E tra noi ci e tezeitano. L'inconcaio. Rolungain, diciamo. No, no, non è che ne ha mai avuto la scuola, perché non è che ne do' la scuola. Chino. Ah? Non, no, non è. E mi dicevo, rolungain, li ho. Ré? Ré? Nieria ven per il gior, vien per il scuola, ven per il scuola. Rattano, dicendo, ma stuvi e stuvi, siete in giallo, ne sveravo qualche cosa, non parlo, ma c'è preparato, non parlo, non parlo, allora si tratta di bollere come ripartiti, non parlo poco, ma ci trova che il nostro statismo di giallo e ci sono stati. Ma ora èNowo che stanno ad fare un giallo e ci sono Grazie a tutti. La mia vita è un'eserrore, non ha mai parlato di un'eserrore, ma che non puoi fare il nostro paese, ma che non puoi fare il nostro paese. Buon reposso, io poi. No te ho parlato. Buon reposso. No te ho parlato. No te ho parlato. No te ho parlato. No te ho parlato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.